Dimensioni interne maggiorate, un nuovo turbodiesel e un sistema di trazione ottimizzato che garantisce la consueta supremazia in off-road. Ecco il nostro incontro ravvicinato con la nuova Jeep Cherokee. Jeep Cherokee è arrivata alla terza generazione. Nel pieno della sua maturità tecnica e stilistica è cresciuta nel piacere di guida su strada, negli standard di sicurezza, nei contenuti tecnici off-road e nel design, ancora più autenticamente Jeep. Grazie all'eliminazione della ruota di scorta esterna, ora posizionata sotto il veicolo, il nuovo Cherokee presenta un maggior passo, che si traduce in più spazio a disposizione dei passeggeri. Completamente rinnovati e più funzionali gli interni, la nuova e elegante plancia conferisce all'abitacolo un piacevole ordine. Il quadro strumenti a quattro quadranti con sfondo nero è dotato di elementi grafici bianchi e aghi arancioni. Due optional interessanti sono il pacchetto che riveste gli interni in raffinata pelle e il tetto apribile per chi non sa rinunciare all'ebrezza del cielo a vista. Importante novità sotto il cofano, si tratta del nuovo turbodiesel 2008 Common Rail 16 valvole con filtro antiparticolato di serie. Il nuovo propulsore da 177 cavalli a 3.800 giri al minuto consente a Cherokee di disporre di una maggiore coppia, che è pari a 460 Nm con cambio automatico a 5 marce e un'autonomia di circa 720 km con un solo pieno. E per chi lo desidera c'è anche la trasmissione manuale a 6 rapporti. Jeep Cherokee accelera da 0 a 100 km orari in 10 secondi e 5 con l'automatico e 11 e 5 con il manuale. La velocità massima è rispettivamente di 179 e 180 km orari e il consumo medio di 9,4 e 8,6 litri per 100 km. L'evoluzione contenutistica di Jeep Cherokee è ben esemplificata dalla presenza di soluzioni tecnologiche di sicuro interesse, come il nuovo sistema di trazione integrale inseribile Select Track, ideale per viaggiare su fondi asfaltati o per correre superfici a scarsa aderenza in tutta sicurezza. L'Hill Descent Control, che consente di affrontare le discese con il massimo controllo, o ancora l'Hill Start Assist, utilissimo nelle partenze in salita, perché mantiene la pressione sui freni anche dopo il rilascio del pedale per circa 2 secondi. La nuova Jeep Cherokee è disponibile da questo weekend in concessionaria negli allestimenti Sport e Limited.